Andate su foodgalaxy.com per acquistare crediti e con il codice FRAX avrete il 5% di sconto Bella ragazzi e riccomi tornato sono FRAX con un nuovissimo FRAX sul mio FRAX Oggi siamo qui con un altro pack opening su FIFA, ho rotto il cazzo che pack opening me ne posso rendere conto Ma perché ho deciso di fare un pack opening? Perché come potete vedere dai pacchetti oro che ci sono c'è una squadra speciale di Halloween Che sarebbe questa qui, guardiamola un po', eccola qua che compare E' fighissimo perché le carte guardate come sono fatte, cioè vedete c'hanno tipo le ossa intorno, lo scheletro dietro C'è una figata mostruosa, tra l'altro io voglio proprio lui, voglio Salah, cioè il più scarso di tutta la squadra ma io lo voglio perché lo uso nella serie A Perché si chiama Salah, se no l'avrei usato in un'altra serie, si chiamava Salb, l'avrei usato nella serie B per dire Sono un cazzaro Francesco, Francesco sei un cazzaro, smetti Però non ci sono questi giocatorini abbastanza carini, c'è anche il buon Müller, fate l'amore con Müller C'è Mandzukic, ci sta un po' di gente, insomma c'è lui che insomma tutti lo conosciamo, no? Il mitico Budeboots, c'è Schneider Insomma c'è della gente, c'è anche lui che non sarebbe per niente male Quindi io direi di fare un pack opening, intanto per cercare di trovare qualcuno, dato che non ho mai trovato nessuno su FIFA E poi se ci dovesse proprio di culo, potremmo anche trovare qualcuno di questa cosa qui speciale di Halloween che male non è Abbiamo 10 pacchetti, purtroppo sono solo 10, da 15.000 crediti e poi apriremo i 7.500 all'infinito Quindi iniziamo subito, senza indugi e senza inciuci, coi pacchetti da 15k Li apriamo tutti di fila, non me ne frega un bel cazzo di niente E intanto vi chiedo di lasciare un MPA per arrivare a 10.000 Così che io possa fare del sesso con tante piccole fatine dei boschi Strootman, bellissimo, fatine dei boschi Ancora, another pacchetto The second one, the second one, the second one Damme una carta nera, un botto Niente nera, un botto Niente Siamo andati per lo zenith, abbiamo trovato Danny, il medico Danny Laom Che tra l'altro gli assomiglia pure a Danny Laom Oh mio dio, un po', è tipo Danny Laom tra 20 anni The third one, the third one, incredibilmente Oh, l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovata, è pazzesco Porco 2 sì, ballerino, ballerino, balliamo un botto incredibile Porco 2 regà, l'ho trovata, l'ho trovata Quanto è figa la carta così, ma quanto è figa la carta così Ma è proprio bella, ma è proprio bella Mazza, è anche un gran terzino destro lui comunque 96 di velocità, 96 Cazzo, ma sei tipo, tipo Gesù Cristo delle fasce Bellerin, mi piaci bellerin, fammi vedere qua quanto vali Quanto vali Ma, beh, beh, 110 mila Not bad, not bad veramente Ballerino, ma andiamo subito al club Pazzesco Signori, abbiamo trovato un cazzo di giocatore della squadra, di Halloween, di sto cazzo Ma io volevo qualcosa, qualcuno E finalmente è arrivato, ma finalmente Ma alleluia, ma ringraziamo il signore Beh, allora a sto punto regà, abbiamo aperto i solo treni, abbiamo trovato uno Io ne voglio almeno un altro Almeno un altro in sette pacchetti, datemelo Datemene un altro, vi prego Ancora no, magari il prossimo, con calma Comunque, Mata, Juan, l'abbiamo trovato Che comunque non è malvagio Anche dato da Bellerin, potremmo anche pensare a fare una piccola Barclays carina, eh Signori, che bucio di culo ci ha detto Beh, certo, ci abbiamo trovato Bellerin del cazzo 80, dove roll Ma sti cazzi, insomma, voglio dire, l'abbiamo trovato E mica male E dai ancora, Figa 17, dammi Magari non lui Perché non, proprio non mi interessa, sì, Riku Però grazie Abbiamo trovato Vidal Ma abbiamo ormai già il nostro terzino destro preferito Grande Lorenz Magari costava pure Lorenz Che argento, con un botto di velocità Vabbè Signori, cinque pacchetti rimasti Dai, dai Guarda l'esplosione, è già sul pacchetto Mamma mia, peccato Peccato, cazzo Tigres, Juan, Juan, Tigres Gianluigi Gianjuigi Pardo Quattro pacchetti E dai, me ne date un altro Lo so che ho sculato Lo so Ma datemene un altro No Vabbè Scusa, dai lazzo E che, vaffanculo Figa, bia bianì 95 di velocità Velosità Cos'è la velocità? Ma sei diventato spagnolo, Francesco Ma la smetti Tre pacchetti rimasti Terzo, ultimo pacchetto E dai Vaffanculo Vaffanculo Va, Roberto Firmino Va bene Ti ringrazio perché non sei scarso Ma va a cagare Sei comunque 82 Io mi ti sbatto sul pisello Dai, raga Due pacchetti rimasti Only due pacchetti rimanenti Dai 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 così Lasciate la cadestra Non è vero È stato inutile il vostro like Non Ah? Ah no Non comparì Cosa? Ah? Ah? Oh, finalmente Oh, Ames È la prima volta che trovo un giocatore così Non capivo cosa fosse successo Vedevo Esplosione Ames Rodriguez Benvenuto nel club Ma proprio Benvenuto Poi ti sta molto bene la maglia della Roma Lo avete notato anche voi Gli sta veramente Grande Ames Fammi vedere quanto Quanto worth Quanto vali Minchia 360 Non costerà mai 360 Ma 80k ce li siamo fatti Qua Ames Bravo Ames Bravo Ames Oh, finalmente un pack opening In cui In cui mi dice culo Un minimo Un minimo Mi dice culo Ah Ultimo pacchetto rimasto Lo apriamo Ci leviamo questo peso Cosa sarà mai successo In questo momento Niente Niente Abbiamo trovato Adler Vabbè Lo so che non è più disponibile il pacchetto Ma noi ci andiamo ad aprire Qualche altro pacchetto Da 7500 Perché se tante volte ci dice Quel 5% De bucio De culo Magari non trovando Giorno rari Vero Castils Castils Grande Io credo che lui Abbia effettivamente vinto il premio Come giocatore più pallido Di FIFA 2017 Cioè Bianco è proprio dire poco È proprio latte Minchia Ma questo è uno spacciatore De 100 CL Guarda che fascia che c'ha Fezza Ma come Ma cazzo Ma compra una vocale Angeletto di Maria Dacci un oro Non raro Per piacere Proprio te lo chiedo Gil Grande Gil Nei nostri cuori Io comunque In tutto questo Sono andato avanti Nel registrare E avrò registrato Un po' Cioè nel senso Sono a 25 minuti Di registrazione Sono 10 minuti Che apro pacchetti E sto continuando A non trovare nessuno Quindi diciamo che Apriamo gli ultimi pacchetti E possiamo anche concludere L'opening pack L'aprimento di pacchi Incredibile Mostruoso Diciamo che ce la siamo portata A casa Una bella giornata Comunque ci siamo portati A casa Ballerina Che comunque insomma Edizione Halloween Non è male E abbiamo anche trovato Il buon James Chiamato anche Ames Ma proprio dagli stolti Rodriguez Insomma che sono altri 80k Real Madrid Delle cadere mercati L'Asenzio Lui si prende in shot in Si fanno shot in Di Asenzio Eccolo Ames Magari è il segno premonitore Che ora troverò Ronaldo Per man of the match Del dio Non è vero Non esiste poi tra l'altro Ancora il Pio 17 Ma io lo troverei Ah lui Sta qua dietro A Milano La fermata da metro Catorna No È lui Signori L'ultimo pacchetto di oggi Angioletto di Maria Un oro raro Un centro Ah Per nà Signori io direi Che il pack opening Può finire qui Mentre faccio l'auto Apro un altro pacchetto Perché sono un bimbo Acab Il pack opening Può finire qui Come vi dice Lo metto qua sotto Che esce dalla mia scrivania Lasciate un mi piace Intanto abbiamo trovato anche Blind Che è proprio così Lui È cieco È blind Proprio un botto E lasciate un like Come vi dice Lo vino qui sotto Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Potete anche seguirmi Sui miei social network Tipo Instagram Ma anche sulla pagina di Facebook Perché ci sono La sto ricominciando A utilizzare veramente tanto E quindi Andate lì Se volete vedere cose Nel Quindi da Frax È tutto Ci vediamo al prossimo video Signori E niente Lasciate sto cazzo di like Bella Bella